Ciao, sono Marco Tambon, nome d'arte Marco Marketer Immobiliare. Nella vita sono un agente immobiliare e vendo le case e dunque, come lo dice magari il nome a cui ho dato la mia professione, cioè Marketer, uso molto la pubblicità, una pubblicità molto diversa da quello che fanno le classiche agenzie per vendere gli immobili. Cosa comporta questo? Che per fare un'ottima pubblicità devi essere il migliore e capire come funzionano le sponsorizzate e il mondo dell'online marketing. Cosa succede? Ho fatto molti corsi prima di questo e sto facendo appunto questo video per ringraziare Fabio Facin per l'ottimo corso che ha fatto. Devo dire che in confronto ad altri corsi che ho visto, dove solitamente ti danno le nozioni del momento e poi vai, corre nel prato felice e impara da solo tutte le basi, Fabio era un completo a 360 gradi. Cosa succede? Che ho visto, a differenza di altri corsi, che nei suoi corsi sembra che è come se lui si mettesse proprio a fianco a te e ti insegna per filo per segno dove si clicca, cosa si fa. Cioè si vede che ci mette molto il cuore in quello che fa. E questa è stata una grande differenza perché mi ha permesso di ottimizzare i tempi di apprendimento. Dove magari per altri corsi dovevo stare lì e cercare su Google come si fa questo, come si fa quello. Invece lui sembrava proprio in questo videocorso che era lì a fianco a te, tu dovevi solo prendere le pc e fare le stesse identiche cose che faceva lui e tutto andava liscio come l'olio. A livello di risultati ho visto aumentare di molto i contatti. Sappiate che nell'immobiliare trovare contatti che vendono casa o che cercano casa è difficilissimo perché Google e Facebook non hanno precisamente questi dati e dunque è stato molto difficile in questo ambito trovarle. Però grazie ai consigli di Fabio, poi anche nel corso penso che continuerà a farlo, c'è questo gruppo in cui si può chiedere e fare domande nel caso hai alcune e dunque hai un supporto anche a 360 dove veramente da zero puoi diventare a livello esperto riguardo l'online marketing. Ecco, basta. Ti ringrazio Fabio, grazie per quello che hai saputo insegnarmi e ci vediamo per i prossimi corsi. Spero che questo video ti sia dato d'aiuto, infatti promuovo e consiglio chiunque vuoi avvicinarsi a questo mondo di guardare subito i video di Fabio perché appunto da lì hai le basi a livello avanzato tutto in un colpo. step by step, filo per segno, basta che segui cosa dice e quello è. Poi c'è chi ti spara qualche tecnica speciale e sappi che non funziona perché in questo corso, io ne ho fatto altri di corsi, in questo corso c'è tutto ciò di cui hai bisogno. Dunque grazie ancora e spero che questo video ti possa aiutare e buona fortuna, ciao!